Allora, Promoturismo è l'agenzia viaggi della CGL, perché la CGL non è solo sindacato. Sì, no, noi facciamo anche viaggi proprio culturali e collegati alle varie associazioni di categoria. Siamo nati tanti anni fa proprio per calmierare i prezzi e per dare un servizio anche alle persone anziane che volevano andare in vacanza, potendo spendere quello che rientrava nel loro budget e fare però delle vacanze di qualità al mare e in montagna. Questo non è finito nella storia perché Promoturismo tuttora continua a mandare le nostre persone anziane in vacanza d'estate e anche d'inverno. In località belle stanno due settimane, con il pullman partono comodamente ed hanno sempre però un supporto dietro anche dei vari comuni che noi siamo collegati a comuni di tutta la regione, Arezzo, Pistoia, Prato, Firenze, da anni. Oltre a quello però insomma cerchiamo di sì dare un buon qualità prezzo e di dare a loro tutte le possibili, possiamo accontentare tutte le possibili necessità che loro hanno in queste vacanze. La CGL funziona in questo caso anche come garante di qualità ma di serietà anche? Certo, alle nostre spalle c'è sempre la CGL toscana perché comunque la base parte da lì. In base a quello noi abbiamo anche la responsabilità di far sì che tutto vada fili liscio proprio perché dietro abbiamo un nome importante come la CGL. Parliamo dei viaggi della memoria, che cosa sono? Allora i viaggi della memoria sono dei viaggi studiati in collaborazione con associazioni di categoria quali Hauser e sindacati pensionati italiani, gli SPI, che ci fanno proprio delle richieste dove vogliono mantenere vivi i ricordi dei campi di concentramento o anche collegati ai terreni confiscati alla mafia. L'ultimo viaggio è partito a settembre, ha fatto Auschwitz con un'accompagnatrice, tutti hanno mandato ringraziamenti sia di persona che telematici, proprio perché sono viaggi che mantengano sempre in mente purtroppo quello che è successo nel passato e che non va dimenticato. Ed è sempre fatto in collaborazione con le associazioni di categoria. Ma come si concretizza nello specifico questa collaborazione con la CGL e con lo SPI? Allora, si concretizza con un rapporto di tutto l'anno, non finisce mai, è sempre una dare e una avere. Loro fanno delle richieste che riconoscano necessarie per i loro iscritti e noi li accontentiamo, sempre però mantenendo un discorso anche di prezzi calmierati, proprio perché la nostra finalità è quella di, collegandosi alla CGL, è quella sì di dare un servizio, ma che dietro al servizio ci sia anche un prezzo congruo. Lavorate anche con la scuola? Con le scuole sì, anche lì, quando fanno gite scolastie, scuole anche lì di Pistoia, Prato, Firenze, siamo uno dei referenti, vedo, prioritari, soprattutto quando fanno gite un pochino più particolari, che richiedono magari qualcosa di più culturale, di approfondimento. Grazie.